Grazie, buongiorno, sono Filippo Giovanna e la mattina mi alzo, esco dal bagno, guardate il mio quadro Titanic, ci sono tutte e due, è un quadro, non è un adesivo, e vado direttamente dal bagno, io non chiudo la porta perché sennò devo fermare qua il video, direttamente al mio birro, il mio birro, il mio ufficio, dove faccio le registrazioni, guardate ragazzi, poche cose, poche cose, ma ci stanno, ci stanno pure il vetro per fare fotografie, dipende dalla situazione, uno si ha pure qualcosa da fare, insomma la mattina mi alzo, mia moglie in cucina, faccio la colazione, Eh, le prime cose che faccio diciamo, diciamo così, vado a prendere un po' d'aria e questo periodo si deve fare perché sennò come si fa a stare a casa, guardate che bello, che bello, aria pura, aria pura, aria pura, aria pura, aria pura, aria di collina ragazzi, aria di collina, Allì c'è il cimitero pure, cimitero, aria di collina, questa è la vita nostra, questa è la vita nostra, la mattina si fa così, di dove si abita si fa così, al momento si alzano tutti i miei figli.